Abbiamo parlato dei riflessi di questa guerra sulla nostra economia regionale, che purtroppo rischiano di essere drammatici. Alcune imprese hanno una forte propensione sui mercati russi e sul mercato ucraino anche, e in generale sull'area asiatica. E questo rischia di comportare un'incertezza molto pesante per molti produttori, soprattutto nel mondo del fashion, della moda, delle scarpe. E oggi abbiamo incontrato insieme al Presidente Acquaroli, insieme al Presidente Sabatini, una importante delegazione, 50 imprenditori con le associazioni relative, per decidere insieme delle strategie. Abbiamo già in mente alcune idee che percorreremo rapidamente, senza perdere tempo, e cercando di creare, se possibile, un sollievo a questa eventuale perdita di fatturato per le nostre imprese. Sono esiti preoccupanti, perché lo scenario è uno scenario in continua evoluzione, che non ci rassicura, che non rassicura le tantissime aziende marchigiane, che sui mercati dell'est europeo avevano costruito negli anni i rapporti consolidati, e quindi molto lavoro e ordini sicuri. Oggi lo scenario cambia, sta radicalmente proponendo una configurazione diversa. Su questa configurazione diversa stiamo lavorando nell'immediato per dare risposte, insieme al Governo nazionale, a quelle che sono le emergenze che si sono create a livello economico, ma anche in una prospettiva di andare a conoscere e conquistare nuovi mercati per portare nelle nostre imprese, nelle nostre aziende, nuove opportunità. Stiamo anche analizzando con il Presidente Acquaroli, con il Vice Presidente Carloni, nuovi scenari, nuovi mercati, dove poter magari in questo momento di difficoltà, perché pensiamo che l'evento bellico non venga a terminare subito, magari scoprire nuovi mercati. Altresì gli imprenditori vogliono dei sostegni importanti per far sì che tutte le fatturazioni emesse, tutte le commesse che loro avevano con il mercato ucaino e con il mercato russo, possano essere sostenute. Ricordiamo che il settore Russia, sul distretto Fermano Maceratese della Calzatura, incide quasi l'80%, perciò a livello nazionale i numeri più importanti sono quelli marchigiani che vanno a intaccare su questo evento bellico.